Tra la tua attuale presenza appunto a quelli che il calcio e il tuo passato a Roma TV hai avuto la possibilità di essere a fianco e di intervistare anche personaggi dello spettacolo molto legati alla Roma, no? Come no? Ce n'è uno che è proprio romanista in modo... Va, io ti ho visto ad esempio in foto... Ne ho intervistati tanti, ho intervistato Verdone, Fabino... Tanto scorrono le foto di te mentre intervisti... Perché avevo proprio creato un format sul canale della Roma, si chiama Pausa Caffè e avevo gli amici romanisti che venivano... Beh, guarda, ti posso dire, Fabino mi ha raccontato che una volta aveva dormito fuori Trigoria da ragazzino quindi potrei dirti Fabino, però poi è venuto Verdone che è un romanista a 360 gradi a Mendola è un altro romanista pazzesco, quindi il problema di noi tifosi della Roma è proprio questo che lo siamo proprio fino alle viscere, non c'è una via di mezzo... Quindi sono tutti dei grandi tifosi della Roma, è difficile fare una scelta su chi è migliore dell'altro, veramente... Poi anche i giocatori... A quelli che il calcio, anche ad esempio, spesso ti trovi in coppia con Fresi, giusto a commentare le partite... Eh sì, è capitato anche con Stefano, tanto, tanto, anzi lo salutiamo che sicuramente lui sarà lì a tifare i personaggi. Con Stefano ci sono tanti messaggi, ci scambiamo anche su quelle che sono le sorti della Roma, quindi sì, sì, assolutamente. Siamo una coppia invincibile, non solo perché abbiamo sempre vinto, ogni volta che siamo andati in trasferta insieme... Vedi, è una coppia vincente allora... Ma anche perché poi ci facciamo il nostro tour delle città e quindi ci vediamo anche un po' quelle che sono le località dove andiamo a finire... Quindi c'è una bella simbiosi tra me e Stefano, siamo dei tifosi accaniti. Allora, cara Francesca, ti diamo appuntamento qui, ti invitiamo già ufficialmente, appena presenterai i tuoi famosi progetti di cui non puoi parlare... Noi siamo qui pronti ad accoglierti di nuovo per parlare di Roma e anche di te ovviamente. Grazie a te Simone, grazie al Corriere dello Sport e forza Roma sempre. Grazie mille, grazie e un saluto a tutti i nostri amici e al prossimo appuntamento.